La Crociera è qualcosa di meraviglioso, veramente un paese viaggiante, prendete il Depliance per chi volesse partecipare, è una cosa bellissima, c'è il Pullman compreso anche, quindi il Pullman che vi porterà, compreso nel prezzo, vi porterà fino al porto di Venezia dove ci imbarcheremo, staremo via sette giorni, faremo il giro, i panorami d'oriente, un giro bellissimo, costa favolosa, 30 settembre, 7 ottobre, Omar Lambertini, tutta l'orchestra, Le Mondine e porto anche Daniele. e Alessandro Imperatore, grazie ragazzi, proseguiamo nella serata, alla prossima, grazie di cuore, grazie, grazie, grazie.